spogliando il giornale fatti e commenti a cura di rvs amiche amici in ascolto ben trovati un ben trovato anche a samuello succi psicologo psicoterapeuta ancora una volta qui nei nostri studi ciao samuele ciao buongiorno a tutti prendiamo spunto quest'oggi da un articolo che abbiamo trovato su repubblica di mercoledì 26 febbraio un articolo che ha per titolo se la paura diventa malattia l'italia ai tempi del coronavirus di gianfranco caro figlio inizia in prima pagina su repubblica e poi continua all'interno noi leggiamo solamente alcuni paragrafi e li commentiamo con samuele allora lui dice ci preoccupiamo per eventi o fenomeni assai improbabili e al tempo spesso proprio per la medesima ragione l'incongruenza fra paure e rischi ci esponiamo a gravi pericoli senza alcuna consapevolezza e poi caro figlio fa degli esempi un mio amico ha come tanti paura di volare e dunque per nessuna ragione sale su un aereo notoriamente il mezzo di trasporto più sicuro che esista però viaggia alla guida della sua potente vettura spesso superando i 150 chilometri all'ora convinto di avere tutto sotto controllo ma in realtà esponendosi a un rischio di gran lunga maggiore rispetto a quello minimo del volo moderno se il rischio è volontario ci sembra più basso e governabile se ci viene imposto da altri o non si ha la possibilità di controllarlo come nel caso delle epidemie viene percepito soggettivamente con molto maggiore intensità le influenze normali producono oltre 6.000 decessi all'anno per cause dirette e indirette l'inquinamento dell'aria produce da 100 a 200 decessi al giorno in italia eppure nessuno pare preoccuparsi di questo rischio rispetto a quelli connessi all'attuale epidemia la possibilità di entrare in contatto con un virus misterioso mette in moto una preoccupazione diversa e per quanto possa apparire assurdo maggiore rispetto a quella di respirare particelle cancerogene questo è uno dei tanti segni della nostra irrazionale relazione con il mondo e l'incertezza allora qui pone diversi problemi ma forse prendiamo in considerazione questo strano modo di porsi di fronte al pericolo la paura è un sentimento spesso molto opportuno ci salva da tante situazioni pericolose però non sempre perfettamente razionale allora samuel orsucci che idea ti sei fatta ma sicuramente ha grande ragione quando scrive queste cose perché di fatti noi siamo più spaventati da ciò che non che ciò che sfugge dal nostro controllo piuttosto che dagli elementi nei quali noi ci mettiamo al rischio apparentemente sotto controllo ma che non lo sono perché se vai a 150 all'ora con la macchina anche in autostrada proprio tutto sotto controllo non è ecco certo certo e come si fa allora uscire da questa sindrome della paura irrazionale d'altra parte bisogna anche dire che tutti i provvedimenti che sono stati presi in questi giorni di chiusure di luoghi pubblici le scuole sono ansiogeni non c'è niente da fare certo anche la televisione con il countdown tanto che persino il primo ministro ha chiesto alla rai di insomma di attenuare ecco questo impatto emotivo dell'informazione si sta cavalcando un po il sentimento per fare dell'audience per raggiungere degli obiettivi che magari vanno oltre il problema reale come si fa a convivere tra il bisogno di seguire certe linee guida di tipo scientifico e dall'altra senza farsi spaventare a morte insomma penso che bisogna usare un po il buon senso non possiamo essere sballottati da ogni notizia che ci viene addosso né trascinati dalla paura magari di altri e osservare comunque attenersi guardare i fatti cercare di vedere in ciò che viene detto cosa sta realmente accadendo a volte questi discorsi di paura sono sempre molto superficiali non ci vengono riportati dei numeri specifici messi in correlazione con la realtà no dei virus influenzali o di quant'altro quindi non c'è uno sfondo sul quale questo dato che tu mi porti abbia un senso ci sono solo diecimila morti centomila morti ma su dove quanti rispetto a che cosa quando tutto questo viene proposto in un senso ansiogeno a quel punto bisogna farsi una domanda in più ma che cosa mi vuole produrre no questa emozione vogliono cercare per forza l'audience per esempio magari sto ad ascoltare cerco naturalmente di osservare di seguire magari le indicazioni che gli esperti danno e le indicazioni anche delle autorità è insomma tu no uno che abita in certi paesi da zone delle zone a rischio non è che può andare via insomma così becca la galera ecco non è che quindi ci si attiene a questo ma si cerca di osservare anche le situazioni spesso e volentieri il dato si riferisce a persone che purtroppo muoiono dovuto a cause complicate no quindi hanno altri problemi fisici e quello si sommano alle loro difficoltà è sempre così quanti dati sono se non ci viene data questa informazione allora forse rimaniamo in una sospensione del giudizio forse sì e guardiamo i fatti diciamo ma vediamo come andrà a finire no che cosa accadrà quali sono realmente le situazioni intorno a me per esempio ultimamente ci sono molti no che lamentano di quest'ansia ecco che è arrivata vicino a casa nostra è arrivata dietro l'angolo aspetta devo chiudermi a casa forse non esco tutta una serie di precauzioni che a volte c'è da chiedersi basate su un'informazione certa o non chiara o non specifica o un allarmismo eccessivo boh sicuramente mi controllo cerco di regolarmi entro certi limiti naturalmente e poi vedrò un po come le cose proseguono penso che sia il modo più adeguato per non entrare nel panico state ascoltando sfogliando il giornale e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista allo psicologo e psicoterapeuta samuele ursucci qual è la dimensione giusta di questa ansia quando è che si passa dalla preoccupazione legittima alla psicosi questo è il vero problema mi sembra non è di facile è complicato non trovare una risposta a questa questa domanda e forse bisogna avere una prudenza in più piuttosto che una mancanza di prudenza certamente lasciandoci uno spiraglio nella cercare di capire di informarsi di confrontarsi di non entrare per forza nell'idea che basta mi chiudo dentro casa e esco solo quando la malattia è scomparsa no probabilmente si parla di una difficoltà di un'influenza molto forte ma pur di influenza si parla caro figlio continuo dicendo bisogna affrontare la vita accettandone l'ignoto e la complessità bisogna affrontare il rischio prendendo tutte le precauzioni sensate quelle suggerite dai veri esperti ma non quelle insensate generate da un bisogno immaturo e pericoloso di governare l'ingovernabile cioè l'incertezza bisogna usare la paura come uno strumento di lavoro per cambiare le cose e non lasciare invece che diventi una forza incontrollabile e distruttrice noi lo corriamo questo rischio secondo te? basta pensare a quegli individui che hanno attaccato verbalmente o fisicamente dei cinesi perché tornate bene a casa vostra che ci fate qui cioè c'è una reazione che va oltre il lescito ora lo faranno con gli italiani questo all'estero si poi tocca a uno e all'altro alla fine c'è sempre qualcuno da dover lui conclude con questa frase la paura può essere essa stessa una malattia oppure uno strumento dell'intelligenza per affrontare i pericoli e sconfiggerli la scelta fra l'una e l'altra possibilità inutile dirlo tocca a noi il problema è che queste paure si inseriscono in una situazione che già è a volte un po' compromessa tra virgolette per quel che riguarda la dimensione psichica dell'individuo persone che sono già in qualche maniera predisposte al panico non so se è possibile dire così certo ci sono persone che vivono con ansia la propria alimentazione che vivono con ansia la cura del proprio corpo che vivono con ansia la propria salute e quindi questo tipo di notizie allarma a loro in modo particolare e quindi li portano a esasperare certe risposte quindi la soluzione sta nei giornalisti forse? ma sicuramente il giornalista dovrebbe forse limitarsi semplicemente a raccontare i fatti invece che a urlarci l'allarme di questi giorni ma dall'altra parte sicuramente c'è un percorso personale dove in qualche modo noi abbiamo costruito una nostra serenità basata sul controllo della nostra vita controllo che in fin dei conti come dice l'articolo è assolutamente vero non è mai al 100% perché può succedere sempre che una persona perde il controllo della propria macchina ti viene addosso perdi l'uso delle gambe o che in qualche modo prendi un'altra malattia che su un miliardo di persone solo un individuo può subire quei determinati danni bisogna essere fatalisti? sicuramente bisogna capire che a volte certe cose si fuggono dal nostro controllo a volte anche in un'operazione dove il medico è un luminare di quell'ambiente può sbagliare può dimenticarsi qualcosa dentro come a volte capita delle garze o quant'altro che a volte le situazioni per quanto normalmente vanno bene e si spera che vadano sempre bene purtroppo ci sono alcune cose che a volte vanno male si fanno degli errori ci sono degli imprevisti l'imprevisto fa parte della nostra vita certo quando tocca a noi ci dispiace ci fa soffrire ci fa perdere una parte della nostra esistenza però è vero che anche quello esiste e il controllare quindi il vivere a metà tutta la propria vita basandosi sulla paura della malattia la paura di questo o di quell'altro portata all'eccesso alla fine ti fa vivere anche quel periodo te lo fa vivere a un terzo delle sue potenzialità mentre non sei mai stato sereno mentre hai sempre avuto un tarlo da qualche parte e quindi cosa facciamo? come si cura il paziente? l'italiano diciamo così ma in questo caso ci vuole un percorso personale capire da dove nascono queste paure queste ansie questo bisogno di controllo noi possiamo elaborare e trasformare la nostra vita solamente quando capiamo cosa è veramente accaduto un po' come noi possiamo perdonare l'altro e quindi lasciare il nostro rancore il nostro odio solamente quando abbiamo capito esattamente cosa ci ha fatto male l'altra persona e poi sulla base di questa comprensione arrivare anche al perdono cose sommare sì lo perdono ma non ne voglio più parlare sì è una cosa che voglio dimenticare cioè la rimozione non va bene in questo caso no assolutamente no dunque un consiglio conclusivo per questa nostra riflessione sì è quello di rimanere a guardare di non arrivare subito al giudizio alla certezza su qualcosa che ancora non si conosce appieno la conosceremo meglio purtroppo in modo particolare dopo che gli eventi saranno accaduti io penso che le dovute attenzioni igieniche naturalmente un po' più accurate in questo periodo sono d'obbligo un'attenzione maggiore rispetto ai luoghi pubblici e quant'altro sicuramente ma non da farsene una malattia ok il fatto che a volte ci possa essere la tentazione di ripiegarci su noi stessi e quindi di isolarci si leggeva proprio sui giornali di oggi un appello a telefonare alle persone che sono nella solitudine soprattutto le persone più anziane ai vicini quindi a non farsi ingabbiare appunto per le paure da una sorta di isolamento come tante piccole isole credo che questo sia molto importante non so se sei d'accordo certo non solo da un punto di vista sociale che in qualche modo produce endorfine nel nostro corpo quindi aumenta il nostro sistema immunitario essere in relazioni buone ma sicuramente anche un controllo nel senso che a volte ci sono anziani che vivono ormai da soli e magari questa malattia qui non subiscono il coronavirus ma subiscono altro e non c'è nessuno che in qualche modo l'è venuto a scoprire ecco magari rimaniamo sempre in contatto e con la dovuta attenzione per le per le fasce che sono un po' più fragili un po' più delicate e allora noi ringraziamo Samuele Orsucci per questa riflessione sul tema delle paure è un tema molto di attualità in questo periodo nel nostro paese speriamo insomma che alla fine riusciamo a venirne fuori senza che ci siano troppi danni non solamente sul piano sanitario ma direi anche sul piano dell'economia grazie a Samuele Orsucci per essere stato in nostra compagnia a risentirci in una prossima occasione grazie a voi per l'invito buona giornata abbiamo trasmesso sfogliando il giornale fatti e commenti a cura di RWS grazie a tutti grazie a tutti